Tiziano Ferro, Angela Pacione Cosa? Non si è capito tanto bene Pensando a ti l'ho capito Mentre guardo la radio e poi ascolto la tv E' geniale come idea Dalla radio al telefono richiamerò mio zio Come è il suo zio? Michele Che c'è? Ma cos'è? Sta pagliacciata Non c'è sebo, non c'è fango Non c'è spango, non c'è smardo Non c'è franchio, non c'è un cazzo Che sto facendo Allora con Tiziano Ferro non ci vediamo da almeno 15 anni Ma ci sarà un motivo se non ci vediamo da 15 anni Ciao panetta, ciao Ciao frate Ha detto ciao Gialappi, ciao Forest Come va la vita? Ma scusi come fa a capirlo? Io ho fatto un master di ferrologia a Chianciano Terme Grazie a tutti Grazie a tutti.